CREMOSITÀ E MORBIDEZZA Ogni volta che progetto una mousse al cioccolato, penso sempre a quello che è il risultato che voglio ottenere. Quindi una struttura uniforme, stabile, cremosa, affinché duri nella vetrina il tempo che serve. Ovviamente diversi giorni di vetrina vuol dire perdere cremosità e leggerezza, cosa che non voglio. Quindi cosa faccio? Aumento leggermente liquidi ricetta senza perdere cremosità e morbidezza che sono le caratteristiche che cercano il prodotto. Quindi uso geletta, la gelatina attiva che mi permette di usarla direttamente in ricetta senza idratazione. Questo mi consente di mantenere le caratteristiche della mousse inalterate nel tempo e di tenere la stessa cremosità e leggerezza della mousse appena fatta. Perfetto. Geletta. Active Pubber Gelatin. Fermatexture. Perfetto.